Più denunce e più sequestri. Raddoppiate le notizie di reato per gestione illecita di rifiuti e bracconaggio. E' quanto emerge dal resoconto delle attività svolte nel 2018 dai gruppi carabinieri forestali in Campania. I risultati più significativi hanno riguardato il contrasto al bracconaggio, con oltre 4.800 esemplari di avifauna liberati e la lotta allo smaltimento illecito dei rifiuti che ha portato alla contestazione di 536 illeciti. Nel corso dell'anno i forestali hanno posto sotto sequestro 774 quintali di prodotti agroalimentari. Grazie all'intensa attività di prevenzione unita al clima piovoso si sono notevolmente ridotti gli incendi bostivi calati dell'86% rispetto al 2017.